Ciao, buonasera, ti chiedo appunto seconda vittoria consecutiva per voi, era importante dare continuità al percorso e questi sei punti cosa possono significare per voi? Sì, buonasera, questi sei punti significano molto per noi, per il lavoro del gruppo, per il lavoro settimanale che facciamo e soprattutto per toglierci qualche sassolino dalle scarpe perché arrivavamo da che non riusciamo a trovare la vittoria e trovare sei punti in pochi giorni ravvicinati ci dà una grande spinta per affrontare la partita di Ascoli. Adesso si può andare ad Ascoli con rinnovato entusiasmo e con un po' di maturità in più Sì, certo, sicuramente, anche le partite prima che non eravamo riusciti ad avere i tre punti, ad ottenere i tre punti, la maturità non c'era mancata, però sicuramente questi sei punti ci aiutano a affrontare questi due giorni prima di Ascoli con una serenità in più e daremo tutto per fare tre punti anche ad Ascoli. Ascoli 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 Ascoli